Io sono Diana, ho deciso di partecipare al concorso Facelook per poter diventare un'insegnante di yoga kundalini e spero che vincendo il corso io possa permettermi di pagarmi il corso per diventare maestro e quindi votatemi perché dello yoga she ne ha bisogno, tutti ne hanno bisogno e vi fa rilassare e vi fa diventare migliori